Assessore, stamattina diciamo ad una manifestazione per l'ospedale di Locri, ma lei insomma gli viene impedito di parlare, insultata, le agenzie si stanno scatenando, cosa è successo? È successo una cosa che in dieci anni di esperienza politica non avevo mai visto, da parte di nessun colore politico devo dire la verità. A me sfortunatamente non è proprio stata data la possibilità di parlare perché nel momento in cui ho iniziato a parlare, dicendo che l'Aggiunto Oliverio è, ed espressamente, cioè nessuno può dire il contrario perché il Presidente lo dice a sprombattuto, è a tutela dei diritti della salute del cittadino e della statità pubblica. Mentre dico questo tra i bu della folla e quant'altro, starei su il Sindaco proprio, prende il microfono in mano e anziché, cosa che aspettavamo tutti, calmare le folle e dire fatela parlare, è aizza. Con cori da stadio e da parte del pubblico, devo dire la verità, sono piovuti, insulti e intimazioni ad andarmene talmente tante che, nonostante io ripeto, e l'avevo detto proprio a te, di avere le spalle larghe sulle critiche, ho detto, prendo atto che questa è la democrazia, buon praticamente sono andata via. Ma è una cosa che mi ha colpito questa mattina, quanto è anche in misura minore, di tutta la solidarietà che nel pomeriggio ho ricevuto. Devo dire la verità, mi ha... Insomma, abbiamo anche saputo poi che i sindici si sono tolte la fascia, hanno abbandonato la manifestazione, ma sta avendo, diciamo, attestate di solidarietà da ogni parte della Calabria e non solo. Sì, questa cosa mi ha colpito, perché dai sindici l'ho sentito subito, perché io ovviamente poi sono andata via, scortata dalla polizia addirittura, per entrare nella mia macchina e andarmene a casa. E lì poi ho avuto le chiamate dai sindici, ma sui social network, che tanto vengono vituperati, ho avuto davvero attestati di stima e di solidarietà che mi hanno fatto dimenticare quanto può essere, come posso dire, duro l'essere umano, perché di fatto dopo alla fine, come diceva Che Guevara, bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza e la tenerezza me l'hanno data tutte le persone che hanno dato la solidarietà.